E' una vera e propria bufera giudiziaria quella che si è abbattuta sull'ATERP di Vibo Valencia. 16 indagati ed un sequestro da circa 800.000 euro. E' il bilancio dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura di Vibo Valencia. L'inchiesta ruota attorno a un presunto e illecito utilizzo dei fondi GESCAL e riguarda l'acquisto del palazzo dell'ATERP di Vibo. Era stata avviata nel 2015, dopo l'acquisizione degli atti che avevano portato all'arruolamento di 32 persone attraverso alcuni contratti a progetto. Un avviso di garanzia è stato notificato, tra gli altri, all'ex assessore regionale ai lavori pubblici e attuale vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Gentile, all'ex commissario dell'ATERP di Vibo, Tonino Daffinà, all'ex DG Giuseppe Maria Romano e al dirigente regionale Domenico Pallaria. Sotto inchiesta anche i revisori dei conti che avrebbero sovrinteso l'attività dell'ente nel periodo in cui sarebbero stati consumati i presunti reati. La sede sequestrata stamani era stata acquistata dall'ATERP guidata da Daffinà, quando già si sarebbe avuta piena consapevolezza, ad avviso degli investigatori, che la legge regionale avrebbe di lì a poco soppresso l'ATERP di Vibo Valencia ed accorpato tutte le ATERP provinciali in un'unica azienda regionale. I soldi utilizzati per comprare la nuova sede dell'ATERP di Vibo provengono dal fondo ex GESCAL, gestione case per i lavoratori, che doveva servire invece ad altri scopi. Da Vibo Valencia per l'AC News 24